Allora, questo è un inno al cambiamento e ai suoi attori, ne parliamo con Ignazio Rocco di Torre Padula che è un esperto di finanza tecnologica e fondatore di una startup che si chiama Credimi S.P.A. Il nome è bellissimo, anche perché secondo me, a proposito di tutti i discorsi fatti questa mattina, se c'è una cosa che in questo momento è molto fragile è proprio la fiducia, quindi questa parola, credimi, è una bella parola, la fiducia è un bene strano perché ci si mette moltissimo per costruirlo e ci vuole un istante invece per distruggerlo. Come nasce questa iniziativa e che cos'è soprattutto? Cos'è la finanza tecnologica? Partiamo da questo. Credimi è nata per dare alle imprese italiane una maniera di finanziarsi e in particolare di finanziare i loro crediti commerciali e quindi di anticipare le loro fatture verso clienti in modo totalmente digitale, in maniera molto più semplice, molto più veloce di quanto oggi è possibile fare con le banche o con le società di factoring. Si svolge tutto esclusivamente attraverso internet, le imprese vengono a conoscere, anche credimi, attraverso internet e infatti riprendendo quello che diceva Carlo Alberto è molto bello vedere come tantissimi imprenditori, 45 anni, 50 anni, 60 anni ci trovano attraverso Facebook, che è una conferma che tra una canasta e l'altra c'è una digitalizzazione in Italia anche di quelle fasce di età, quindi è nata per questo, è nata per finanziare le imprese e finanzia le imprese con mezzi di provvista particolari perché i finanziamenti che facciamo alle imprese italiane diventano poi dei portafogli di finanziamenti ceduti a fondi di investimento, fondi che giustiscono i risparmi delle famiglie. Quindi in ultima analisi ritornano nei portafogli delle famiglie italiane. Quindi in questo modo la finanza che c'è nei risparmi delle famiglie arriva alle imprese tramite questo canale digitale che è, credimi. Allora, abbiamo detto prima anche con Francesco Boccia di quanto il digitale dal punto di vista economico può essere un volano pazzesco perché supera tutta una serie di problemi. Penso per esempio a dove siamo oggi, al nostro mezzogiorno, dove ci sono tutta una serie di difficoltà che però forse col digitale è come se avessi un canale preferenziale per uscire dai problemi strutturali e trovarti il tuo modo di arrivare all'obiettivo. È proprio così. In effetti noi abbiamo iniziato a lavorare solo da pochi mesi, dall'inizio di gennaio. Abbiamo adesso fatto 20 milioni di finanziamenti, la metà sono ad aziende del centro-sud. Quando un'azienda chiede un finanziamento a credimi trova dall'altra parte appunto il temutissimo algoritmo, nel senso che c'è una macchina che valuta quell'impresa in un modo oggettivo, a prescindere dalle relazioni, a prescindere dalle conoscenze, a prescindere dalle amicizie e anche a prescindere dalla geografia. E quindi se un'impresa è sostanzialmente valida viene finanziato e lo viene a sapere in 48 ore, senza muovere nessun pezzo di carta. Grazie.